Se volete giocare con me a GTA V Online, fare gare, LTS o anche video o qualsiasi altra cosa allora passate dalla mia crew, link in descrizione Inoltre vi ricordo di attivare la campanella se volete restare sempre aggiornati all'uscita dei nuovi video e di supportare questa serie se vi piace e se volete che la continui Forse ci stanno tracciando, ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca Ok Quest'auto non so cosa riservarmi, questa auto Cosa è sportiva classica Sì Vabbè, proviamola Dai proviamo anche questa Anche se alla fine è un'auto È un'auto alla fine però Cioè raga Sì tanta roba Però Cos'è? Guarda Quanto sbanda Bello Cioè guarda Cioè non è veloce Questo Non lo sarei aspettato Però Comunque direi che la mia auto preferita dal giorno in poi diventerà La prima in pratica credo Vabbè dai È comunque un'auto Potevo tenermi un po' di soldi per comprarmene una migliore Però A volte un po' di ignoranza Ci sta Perfetto Quasi 40 minuti di registrazione Io con me li edito Tutti in un pomeriggio poi Beh Anche questa è piuttosto ignorante Come auto È la quinta volta che lo dico Ma non fateci caso Perfetto E ora manca l'ultima Che ho già provato in una gara Quanti soldi abbiamo? 27 milioni e mezzo Esci dal pieno terra Bene Proviamo un po' anche questa E poi direi di chiudere la registrazione Dopo Circa 45 minuti Che capite Sono tanti Da editare Questa quanto verrà il video Comunque Non ha luci Non ha luci raga Vabbè Andiamo un po' gli interni Belli Questa Qui è da rally Rally E basta Per le gare Ha una buona Manovrabilità Guardate come recupera Trazione Bella Bella Bell'auto Ci sono rimasti 27 milioni E 200 mila E c'era da aspettarselo Quanti soldi ho speso Tipo 10 milioni Tra tutto Anche di più Perfetto Vabbè Entriamo nel nostro garage Quanto dovrò editare sto video non lo so Comunque Allora Perfetto E niente raga Queste qua erano tutte le auto uscite in questo nuovo DLC Tralasciando la T20 Vabbè Guardate questa qui è bellissima Molto Bella Vabbè Vi ringrazio tutti per la visione Lasciate un like Condividete il video E niente Al prossimo video Vabbè